Sono riconoscimenti che si stanno moltiplicando verso il settore agricolo e agroalimentare calabrese. Noi siamo oggi felici di festeggiare il pecorino crotonese DOP, che è un pecorino rinomato, rispetto al quale noi abbiamo fatto insieme al Consorzio, e voglio ringraziare per questo il Presidente del Consorzio Francesco Scarpino, una efficace azione di promozione. I risultati sono chiari, sia dal punto di vista della qualità, sia dal punto di vista anche del brand, che stiamo costruendo attorno a questo importante prodotto della provincia di Crotone, ma credo ormai dell'intera nostra regione. Un altro elemento, un altro tassello che si aggiunge rispetto ad un percorso di crescita del nostro settore, che peraltro nel primo trimestre 2022 ha visto crescere del 36% le esportazioni, segno evidente che questo è il motore economico della nostra regione. Sono dei premi che arrivano in un momento particolare, di un'epoca particolare, visto che stiamo attraversando un periodo mai visto, tra virgolette, perché tra pandemia, tra guerra, tra rincari, eccetera, a noi imprenditori della Calabria, come il resto d'Italia e del mondo, abbiamo avuto grosse difficoltà e abbiamo grosse difficoltà per andare avanti, però arriva questa soddisfazione con questi premi a questo concorso internazionale al quale abbiamo partecipato e la Calabria, che è in grado di offrire prodotti d'eccellenza a queste competizioni, ritorna con dei grossi risultati.